Anche perché la sera stavo in casa. Come sei? Di cognome? Penno. Mi preoccupa sua. Non parla più nessuno. Allora, cominci. Allora, cominci, eh? Sì, 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 mamma. Cos'è che è? Sì, sì, Matteo, Matteo. Giovanni! Mi confondo, io sì. Dami una po' di monata. Eh, ok. Ecco perché mi confondo. Un po' di monata. Però siamo sempre visti, sempre. Non so perché ti confondo sempre. Siamo sempre visti. Eh sì. Ma non è facile di fare. Sì. E poi passano gli anni. Non si perde. Il generale Massena nella campagna di Piazza. Ah, come la piazza di Nizza. Sì. Però si può fare Napoli. Perciò questo lo chiamano il ponte Napoleone. Quello di Rezzo lo chiamano un ponte con l'occia. Perché sembra che se vai su che vai un po'. Ma noi però non ci passiamo di lì. No, no. Io ci salgo sempre. Ah, per quello che è l'occia allora. E per quello che è l'occia perché ci passa di mano. Questo invece si chiama Calcinaro. Perché è quello che salivano con i muri, con le gerle cariche di... Piene di calce che portare in paese per fare le calce. Perciò si chiama Calcinaro quel ponte. Poi noi continuiamo lungo la strada. Tutto attaccato al fiume. Camminiamo ancora un bel po'. Vedremo un bellissimo ponte. O del Merino o di pasta secca. E' così straventosa. Come il lagone. Il lago Rossi. Cerco. Non toccarmi bella eh. No, no. Mi devo capire. Elisa, questo che ponte è? Questo è il ponte del Mulino. Il ponte del Mulino. Ah, sì sì. Il ponte del Mulino. No, il ponte del Mulino. Poi, vede che t'avevano una partecipazione. Vede che facevano una partecipazione. Vede che t'avevano una partecipazione. Lo vede che si lo facciamo in verticale. No. Perché mi scappi? Perché mi scappi dall'obiettivo? Praticamente mia, ve' in tutto ciò è il ponte. Allora. Invece me so. Grazie. Ragazzi. Ragazzi. Vede che facciamo un patto. Invece me so. Perché mi scappi dalla partecipazione. Grazie a via.